Francesca Cipriani dopo il malore, ho avuto paura di morire, questo non è il programma per me. Francesca Cipriani durante la consueta prova per il mio repeor, è stata accolta da un malore, che le ha causato un forte dolore al costato, seguito da un attacco di panico. A rassicurare la showgirl sono subito arrivati Rosa Perrotta e Amauris, che hanno provato a calmare la Cipriani. Francesca in lacrime ha detto, avevo il cuore a mille, mi è venuta la tachicardia fortissima, il medico mi ha detto che ho un piccolo soffio. Mi sono messa una paura, non ho capito più niente. Il cuore faceva boom, boom. Mi sono spaventata tanto. Perché ho un problema al cuore? Sono giovane. Ho avuto paura di morire. Non voglio morire, aperta parentesi quadra, chiusa parentesi quadra, voi siete guerrieri, io no, questo non è il programma per me. Non voglio sarebile, io no, così... a ti... a ti... a MY